Gregorio Martino, un inizio shock in questa partita, poi grande rimonta, peccato perché dovevate chiuderla, oggi non ci siete riusciti. Sì è vero, siamo rimaneggiati sia per quanto riguarda i primi 5-6 minuti sia perché rimaneggiati per la fine della gara a causa dell'infortunio di Luca D'Addio, rimaneggiati perché mancano degli elementi validi e penso che c'è solo da dare un plauso a questi ragazzi perché veramente stanno mettendo il cuore, stanno mettendo voglia e grinda da vendere. Però purtroppo il risultato non è venuto e dobbiamo dare anche un plauso anche alla squadra avversaria che è un'ottima squadra. È un'atremia che gioca, anche col solo per tantissime rassenze, avete raccolto un punto, con l'Alma Salerno una signora squadra non si è riuscita a fare risultato, però è indubbio che non si riesce comunque a ottenere un momento di svolta che gli possa fare il salto di qualità. Ci manca proprio quel pizzico per farci fare qualche risultato buono per riuscire a salire un po' la china. Non riusciamo perché magari forse, come dicevo prima, siamo veramente rimaneggiati e automaticamente confrontandoci con queste squadre che sono tutti giovani, dobbiamo dirlo, e noi a di là dell'età penso che mettiamo sia la tecnica che l'esperienza e riusciamo ad andare avanti. Però purtroppo, ahimè, alla fine paghiamo sempre agli scocci della partita. Come prima, magari invece abbiamo fatto due o tre risultati con Pezzella finale. Ciccio Onorevole è confermato, la posizione di Mascolo invece? No, la posizione di Mascolo purtroppo è infortunato, non possiamo averlo per un po' di tempo, già credo che sono passati due settimane. Credo che questa settimana c'è il risponso del medico che ci possa dare l'ok per farlo rientrare in squadra. Onorevole sì, è uno di noi e forse c'è anche il rientro di Mancini in settimana. Devi ringraziare il nuovo sponsor, Old Drop? Sì, ringrazio Old Drop, Rocco Pellino, che ci dà una mano per andare avanti quest'anno e poi magari per l'anno prossimo credo che ci saranno provenzi molto più importanti. Paolo Corino, un inizio alla grande, così come avevi chiesto i tuoi, poi un grande momento di amnesia della squadra, visite ripresi in estremis. Ma sì, praticamente è una cosa che si succede nella seconda settimana di seguito, perché anche a Solofra stavamo, dopo sette minuti di gioco vincevamo 3-0, poi dopo abbiamo avuto quel black cut come l'abbiamo avuto oggi e praticamente poi abbiamo sudato per portare a casa un pareggio, secondo me, strameritatissimo. Che maleventum è in questo momento del campionato? Una squadra che ha dimostrato di potersela giocare con tutti, oramai siete una realtà, è un campionato che può dare ancora qualche margine di cambiamento in questa parte finale oppure no, ti aspetti qualche sorpresa. La Trim è una di quelle candidate addirittura per vincerlo, però è al di sotto della soglia play-off. È in dubbio che tanto ancora può accadere, no? Ma assolutamente sì, è un campionato abbastanza equilibrato, dove non c'è, diciamo, a parte l'arma salendo, con la continuità del risultato, il resto la possiamo giocare tutti quanti. Il maleventum sta facendo, da mio avviso, un grosso campionato. Stiamo pagando un po' la fatica in questo periodo, fatta fino a un mesetto fa, tra Coppa Italia e roba varia, e praticamente fisicamente dei ragazzi stanno pagando, vedi Villani che sta avendo un po' di difficoltà nella fase realizzativa e per noi Villani è importante. Ovvio abbiamo rincalzato con due elementi, Izzo e Francesi, che purtroppo uno proveniente dal calcio, l'atto dalla Serie D appena in preparazione, praticamente hanno problemi fisici e problemi ancora ad inserirsi nel discorso. Però diciamo che l'importante è avere la continuità, anche il punticino come quello di oggi, ti mantiene là, nella giusta distanza, dove stiamo meritando di stare, insomma. Coppa Italia, fase nazionale, che cosa può accadere anche dal punto di vista del ritorno in campionato? Se è qualcosa in cui prima di tutto ci credete, volete lottare per arrivarci fino in fondo e se può pesarvi poi anche per il proseguo del campionato? Ma sì, senti, quando riguarda il discorso della fase nazionale, come già ti dicevo quella sera della finale, noi punteremo a fare bene. Siamo agli ottavi di finale, martedì incontreremo la Delfini Cagliari e poi saremo noi ospiti là. Vedremo un po' di che pasta è fatta comunque la C1 nazionale e staremo là a giocarci. Ovvio c'è da tener conto comunque del grosso impegno che poi abbiamo in campionato contro la miseria e nobiltà, squadre in salute che si è rinforzata nel mercato di dicembre e che praticamente sta facendo bene. Cerchiamo di dosare le forze per poter superire tutti e due gli impegni con una certa determinazione impegno. L'ultima domanda che ti faccio è che l'anno scorso non riuscivi a fare la squadra nella parte finale del campionato. Quest'anno ha tirato fuori dei gioiellini che potrebbero essere oggetto del desiderio di tante squadre, ma il Maleventum che intenzioni ha? Ma sì, il Maleventum si è rinnovato, come tu ben sai. Ho lavorato tutta l'estate, credo che ho lavorato di brutto per poter far sì che questa società ritornasse ad avere un nome di tutto rispetto, lavorando con dei giovani che sono completamente orgogliosi, trovando dei giovani nuovi, peccato che oggi Carlucci ha dimenticato la cartellità, ma colpa nostra della società che non abbiamo provveduto prima della gara, insomma, di prima di partita e che tutti i documenti fossero a posto. Ovvio, ripeto, sto avendo delle grosse soddisfazioni. Ho amalgamato un gruppo abbastanza giovane, il più anziano comunque è Luca Orlando e adesso Izzo gli ho dato un po' di esperienza, anche sotto il punto di vista di presenza nello spogliaturo e sono stra-contentissimo. Maleventum è una società che cresce, che, ripeto, si è rinnovata e vuol far bene. Ovvio, non nascondo il discorso di poter essere poi la prima squadra cittadina, come già lo siamo, e sperando di poter salire di qualche categoria e fare qualcosa che possa far bene sia alla città e a tutti i giovani della città. Carlo Florio, a questa Trilem, oltre a fare i conti con gli infortuni ogni settimana, se hai fatto male anche da Dio, manca davvero un pizzico di fortuna, perché oggi eravate riusciti a recuperare una partita iniziata malissimo, poi ancora una volta al trentesimo dovete fare i conti con un pareggio che forse non meritavate. E' vero, come è avvenuto il pareggio, resta un po' la mare in bocca, però, cosa dire, si è visto, purtroppo siamo ai limiti, cioè, veramente siamo ai limiti, non ci sono giocatori, siamo in tre, poi sono situazioni un po' particolari, non ci riusciamo ad allenare, questo non lo dico per piangeria, però purtroppo se non ti alleni e non hai giocatori è difficile fare dei risultati che qualcuno si aspetta, però purtroppo io devo solo ringraziare a questi ragazzi per la prova che hanno fatto anche oggi. Ripeto, è rimasto la mare in bocca, si è fatto una grande partita senza sottolineo e senza allenamento contro un'ottima squadra. Ecco Carlo, noi continuiamo a dire perché i numeri sono quelli che vedevano alla vigilia del campionato, una trilemma protagonista, perché tutti quanti abbiamo detto che questa squadra doveva adottare per vincere il campionato. A questo punto, considerando anche quello che ci stiamo dicendo da qualche settimana, che infortuni, difficoltà anche di organizzazione, gli allenamenti, mancanza di risultati che comunque nonostante qualche buona prova che state facendo oggi con il Malevento, una volta scorsa col Solofra con tre persone, con l'Alma Salerno contro una signora squadra che non si è riuscita a fare risultato, possono anche cambiare gli obiettivi, nel senso che da questo momento in poi raggiungere già i playoff potrebbe essere una soddisfazione. Io credo che quello che dici tu sono parole sante, cioè se questa squadra arriverà ai playoff sicuramente è come avessimo vinto il campionato, perché è vero pure che è stata allestita una squadra che doveva puntare a vincere il campionato, io sono uno dei primi che l'ha detto che questa squadra veramente poteva puntare al campionato, però come dicevi tu è impossibile di giocare in tre, cioè è una cosa incredibile, sperando che possiamo recuperare qualcuno, speriamo che D'Addio può recuperare, però penso che... Che si è fatto? Ma mi auguro che sia solo uno stiramento, non sia uno strappo, perché se no se è uno strappo è finito il campionato oggi per D'Addio. Troppo, Fabio, credimi, c'è l'amaro in bocca proprio perché non si riesce a fare quello che noi vogliamo, cioè non riusciamo a fare... non lo so, guarda, non voglio dire niente, non voglio dire niente di più, voglio solo ringraziare la squadra e basta, che si parla sempre, si parla sempre, però purtroppo alla fine tu lo sai meglio di me, sono i risultati quelli che contano, no, non conta niente, al di fuori del campo non conta niente, però ti ripeto, già avendo questi punti in classifica, con questa difficoltà che abbiamo avuto, perché è impensabile, è impensabile... Poter fare qualcosa. È impensabile fare qualcosa, ma al di là dei giocatori che abbiamo, è impensabile fare in due mesi un solo allenamento, è impensabile questo.